Ceramiche di Molaroni, Donzelli, Bucci, Desimoni o Verzolini. Bottega storica dell'arte maiolica pesarese che sabato 15 e domenica 16 maggio aprono le porte a cittadini e visitatori in occasione di Buongiorno Ceramica. Una due giorni che su scala nazionale viene dedicata ad una delle più affascinanti eccellenze artigianali e artistiche del Made in Italy. Un'arte in cui Pesaro vanta una tradizione secolare di città a radicata vocazione ceramista. Manufatti eccezionali, tecniche pittoriche e stili decorativi. Un'occasione per scoprire un movimento creativo che dalle botteghe storiche spazierà in questi due giorni in visite guidate ai tesori dei musei civici, del Museo Scolastico dell'Iceo Mengaroni e del Castiglione, noto ristorante della zona mare pesarese che a cavallo fra XIX e XX secolo fu la fucina del maio licaro pesarese Ferruccio Mengaroni. Sabato 15 e domenica 16 apro lo studio a tutti quelli che vogliono partecipare, venire a visitare lo studio d'arte per scoprire che cos'è la ceramica. Parliamo un po' di ceramica, vi farò scoprire un po' di curiosità sempre sul campo della ceramica e vedrete anche delle persone, dei miei corsisti, che dipingeranno un pezzo dal vivo in ceramica. Ci sarò io che presenterò la cosa e aperto anche a tutte le varie domande che vorranno fare, insomma, vorrete fare poi sulla ceramica o altre cose, insomma, ecco, riguardante ovviamente la ceramica e l'arte. Grazie a tutti.